Certo, il mito della sicurezza totale è difficile da contrastare nella nostra società. Aspetti, le voglio anche chiedere una cosa del Presidente del Consiglio Draghi, che comunque in un mese ha ribaltato la strategia sui vaccini, la catena di comando della pandemia, e oggi è andato a Bergamo. E' andato a Bergamo e a un certo punto ha detto Vorrei, mi sentiste vicino nella tristezza e nella speranza. E' perché Draghi teme di non riuscire a raggiungere il cuore degli italiani? Ma io non so cosa tema Draghi, mi interessa poco. E' che il governo ancora è assai lontano dall'essere vicino. Ma non per la questione delle vaccinazioni o altro. Perché ancora la situazione, a differenza che in altri paesi, tra cui in primis la Germania, di sostegno a questa metà, un terzo buono, abbondante di italiani, che stanno soffrendo le pene dell'inferno, al di là del Covid, questa vicinanza non esiste. I ristori cosiddetti ancora non ci sono. O vengono avanti lentissimamente. E in una quantità... E sì, domani, dopodomani. E in una quantità che è assolutamente insufficiente, che è ridicolmente inferiore a quella di altri paesi, tra cui la Germania, ma anche la Francia. E con lungaggini burocratiche che ancora non sono state superate. Siamo ancora ai livelli, dal punto di vista delle procedure e della macchinosità delle procedure. Del primo di PCM, Conte, di un anno fa... Allora, dov'è sta vicinanza? Io sono stufo di queste rettoriche. Non ne posso più di queste rettoriche. Però in un mese cosa poteva... Saremmo meglio, saremmo peggio. Mi scusi, professor Cacciari, ma in un mese, Draghi, non è che potesse rivoluzionare la burocrazia? Ma è un anno che abbiamo il Covid. Ma non me ne importa nulla. È un anno che abbiamo il Covid. E le procedure adottate, anche per questi ristori, al momento a nessuno risulta che saranno diverse. A nessuno risulta. Non è stato detto che saranno diverse le procedure con le quali vado a prendere il mutuo in banca. Saranno diverse le procedure con cui posso accedere ai fondi, eccetera, eccetera. Posso interessarmi anche dei vivi, oltre che dei morti e dei feriti? Andrea Scanzi.